B É L xt Bella a tutti ragazzi Qui è Riky E oggi siamo qui con un altro episodio della Carriera Lenatore con il Bari Come sapete se avete seguito l'episodio precedente Oggi giochiamo in Coppa Italia il turno 2 con il Foggia Quindi Super Derby Sarà una gara tostissima ma poi volevo dire che sto gestendo sempre gli allenamenti della primavera, quindi state tranquilli, li usiamo per bene, e poi ragazzi volevo dire che per il mercato, io nell'app di mercato, ho comunque dei giocatori, ho Crecco che vi ricordate, ho Borrello, Panico, Goyo, Zanellato, che mi piacciono come giocatori, però vi ripeto, dobbiamo nel caso prima vendere per poi poter comprare, perché se no non è il caso, ve lo posso assicurare, la rosa è già troppo lunga, anzi a fine mercato potrei anche pensare di magari mandare qualche giocatore che abbiamo in prestito di nuovo alla sua squadra per avere una rosa un po' più compatta, perché per una sola competizione, o meglio due competizioni se andiamo avanti in Coppa Italia, ma principalmente per il campionato di Serie B, è un pochettino troppo lunga la squadra, secondo me, però per il momento lasciamola, perché comunque cerchiamo di gestirla, poi ragazzi volevo anche dirvi che ho creato anche una squadra 2 denominata Riposo, cioè dove giocano altri giocatori che non sono meno importanti, sono comunque giocatori validissimi, ad esempio al posto, vedete, al posto di Mikai in porta ci sta Berardi, i due centrali difensivi sono Tonucci, Masi, Anderson a destra, Adeli a sinistra, qui c'è Cassani, poi abbiamo Jocolano, Corlu che abbiamo comprato, Galano, Floro Flores, Busellato, Petriccione, diciamo che varia un po' la formazione, quindi ragazzi io direi che con il Foggia possiamo usare la squadra 2, tra virgolette, ma non è una squadra 2 perché è una squadra veramente interessante, quindi giochiamo con questi giocatori, dobbiamo cercare di vincere questo derby e quindi, leggenda, quattro minuti, sereno, si va nel match. Si comincia, i giocatori si scaldano, sarà una sfida veramente, veramente importante, non possiamo deludere i nostri tifosi perché sicuramente vogliono questa vittoria, giochiamo in casa del Foggia, quindi già il pubblico potrebbe un po' mugugnare, quindi dobbiamo stare molto, molto attenti, siamo carichi e ora sotto con questa magica partita. Gioca bene qui il Foggia, attenzione, palla in profondità, attenzione la parata di Berardi che entra subito in campo con la giusta concentrazione, cosa che non ha fatto qui il nostro centrale, mamma mia che rischio, molto, molto un gladiatore in campo, vai Busellato, mamma mia come mi piace Busellato, mettila lui Iocolano, se ne va Corlu ragazzi, il nostro nuovo acquisto resiste di fisico, Corlu, Corlu col mancino la palla resta lì, Delia la mette dentro, bello il passaggio, c'è ancora Corlu che vede Floro Flores, la palla è ancora buona, c'è Iocolano che entra in aria, uuuuh calcio di rigore ragazzi, calcio di rigore al 27esimo, brutto fallo, era entrato Iocolano con una facilità disarmante in campo lì nell'area di rigore avversaria e ora ci sfruttiamo questo calcio di rigore importantissimo, il primo rigore che tiriamo, ecco perfetto, il puntatore non c'è, no lo dobbiamo togliere, quindi ragazzi andiamo a calciare con Antonio, Floro Flores a palla resta lì, mamma mia, 1-0 con il rischio, ce l'aveva parato in rigore, ma poi Floro Flores con la zampata vincente, ho rischiato, non l'ho tirato bene, lo ammetto, però devo anche capire un po', sono un pochettino cambiati i rigori, andiamo subito in vantaggio, in casa del Foggia ragazzi, questo Bari è scatenato, nonostante siamo a difficoltà leggenda, noi ci divertiamo, aveva fatto una gran parata, poi non si rialza bene il portiere, siamo in vantaggio, siamo 1-0 per noi, grande Bari. Sta per finire il primo tempo e noi continuiamo ad attaccare con Iocolano, Iocolano si gira perfetto, il parone è dentro, Corlu funziona bene il dialogo con Floro Flores, che però viene fermato adesso e c'è il lancio lungo, finisce il primo tempo ragazzi, una gara che non è stata giocata proprio alla grandissima dei nostri, però il gol è arrivato sul calcio di rigore un po' fortunoso, questo volevamo e io direi che possiamo proseguire così, anzi, 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 attenzione, voglio fare un cambio con lui, gli ho fatto già giocare il primo tempo e l'hai giocato bene, metterei Guidi, il nostro giocatore della primavera e lo scambierei con Busellato, voglio fare questo cambio, poi potrei mettere anche Fiammozzi e Improta a gara in corso. Vai Busellato, l'appoggio verso Floro Flores, deve far salire la squadra, colpo di tacco addirittura, Busellato, sbaglia tutto lì Busellato, stiamo attenti, bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi a chiudere così, la difesa mi sta piacendo veramente tanto, attenzione, la palla in profondità e arriva l'1-1, meno male che avevo detto che mi stava piacendo la difesa. subiamo questo gol ragazzi, non benissimo, qui ragazzi potrei fare la sostituzione veloce, sì effettivamente è giusta quella che mi consigliano, allora facciamo così, facciamola questa sostituzione perché effettivamente Petriccione è veramente stanchissimo mettere Salzano e poi vorrei provare in prota dietro le punte al posto di Busellato che non mi è piaciuto tantissimo. Andiamo così, mannaggia la miseria, 1-1. Siamo lì, è entrato Mazzio al posto dell'autore del gol mi pare Berretta, via sta palla, via sta palla, bravi, ripartiamo, ripartiamo, madonna si facciamo bene questo contropiede. Oh ragazzi vi prego, non mi deludete, in prota, è molto rapido, in prota, in prota, in prota, in prota, la palla è ancora buona, in prota, nooo, bella, bella in prota, uh che passaggio, vai, vai Guidi, vai Guidi, non ci credo che ha sbagliato Guidi, no ma non ci posso credere, ma qua era a botta sicura, perché ha tirato poi di sinistro, madonna santa. No Fedato, mannaggia la miseria, è una costante qui sulla fascia, bravo Henderson però a dar fastidio, però Fedato è troppo forte, mi piace un sacco come giocatore, o perlomeno in questa partita dà troppo fastidio. Vai in prota, girati, perfetto, vai Guidi, vedi Yocolano, Yocolano deve appoggiarsi bene, vai, vai che l'hai visto, vai che l'hai visto, vai che l'hai visto, in prota, in prota, in prota, nooo, ma non è possibile. Quando ragazzi ti mangi troppe occasioni non è un bene sicuramente, vai Henderson, bravissimo, mamma mia quando fanno questi interventi, mi fanno impazzire, grande, vai Floro Flores, tienila, uffa lo Floro Flores, no, tutto regolare dice l'arbitro, ora stiamo attenti, bella Henderson, oh Fedato, mannaggia, sto Fedato mi deve dare fastidio fino alla fine ragazzi, Camporese, ma c'è Tonucci, spazza via Masi perché non voglio problemi al 117esimo, vai che possiamo pure cercare di creare una piccola azione, Salzano, Salzano allarga tutto, eh, lo sapevo che mi anticipavano, però era l'unico modo per cambiare subito campo, attenzione Camporese che praticamente sta facendo l'attaccante, Jokolano non ne ha più, non ne ha più e si vede, qui tiene palla Chirico, attenzione, vediamo se ricomincia da dietro, probabilmente sì, probabilmente no, chiudete, bravo Guidi, grande giocatore e finisce la partita a calci di rigore e non è un bene ragazzi, perché arrivare ai calci di rigore adesso che non li so ancora tirare in questo nuovo FIFA è veramente brutto, vi dico la verità, proviamoci, che vi posso dire ragazzi, speriamo di fararne qualcuno più che altro, va subito Agnelli sul dischetto, Agnelli pare che possa tirare a sinistra, palo, palo, meno male, palo, palo, vai, vai Floro Flores, mi raccomando Floro Flores, Floro Flores, non me lo sbagliare di nuovo, piattone qui ad angolare e andiamo così, ci siamo, fedato, mi hai dato fastidio tutta la partita, fedato, ora te lo devo parare, no, maledizione, l'ha spiazzata ancora, poi butto sempre là, c'è Galano, Galano ragazzi, giocatore molto tecnico, Galano, Galano centrale e andiamo sul 2-1 per noi, occhio a Chirico, Chirico ottimo esterno che può rientrare col mancino, ma mi butto di nuovo là ragazzi, vediamo, giustamente cambialato, maledizione, c'è Yocolano che ha fatto veramente una bella partita, devo dire, Yocolano, Yocolano, palo no, l'ho angolata troppo, maledizione, Rubin, questa qualità, Rubin ragazzi, mannaggia la miseria l'avevo presa, vai Improta, Improta non mi deludere, Improta non mi deludere, ma dove la tiri Improta, mannaggia, ma no, aveva angolato pochissimo, e ora è già decisivo ragazzi, devo pararla per forza, io mi butto a sinistra, ve lo dico già, io mi butto a sinistra, vediamo se riesco a pararla, e ragazzi, purtroppo, purtroppo, eravamo partiti bene con quel palo, purtroppo usciamo dalla Coppa Italia, e vabbè ragazzi, vorrà dire che ci concentreremo solo sul camminato, è un peccato, perché non è che puoi pretendere, alla fine con una squadra di Serie B, di andare lontanissimo in Coppa Italia, però ci teneva, abbiamo giocato benissimo, dalle clip che avete visto, abbiamo avuto delle occasioni davanti al portiere assurde, però purtroppo è andata così, calci di rigore, lo sapete meglio di me, sono una lotteria, è andata bene a loro, però eravamo partiti bene con quel palo della squadra ospite, mannaggia, 4-2, e vabbè ragazzi, che ci dobbiamo fare, sono arrivati i rigori adesso che ancora non li so tirare bene, purtroppo, però ci faremo trovare pronti quando li tireremo in Champions League, chissà se questa mia frase ad inizio gioco potrà comunque dire la sua, poi a fine stagione, oppure perlomeno quando arriveremo in Champions, chissà. Allora, facciamo una cosa, io devo mettere, il nuovo giocatore della Primavera sicuramente ad allenare, perché non posso pretendere di far salire di 10 questo giocatore così, allora io lo vedo un po' più difensivo, quindi ci metterei questo, ok, poi Bani lo vorrei lasciare, vorrei al posto di Busellato mettere ancora il nostro centrocampista, per farlo salire magari più velocemente, vediamo, nei passaggi ci mettiamo dribble alle porte, ok, simuliamo il tutto ragazzi, madonna sono ancora amareggiato, però ci sta Gion Persale, peccato che è in prestito, alla fine diventa un 73, un ottimo overall per un difensore come lui, però vi ripeto, è purtroppo in prestito. Ancora qui un'email, partita spostata, Bari Frosinone, ok, quindi peccato, peccato essere usciti, ma vabbè, non voglio ancora fasciarmi la testa, avanziamo per vedere se ci arriva qualche offerta per qualche nostro giocatore, perché sembro galliani quando dico se non va via qualcuno non viene nessuno, però purtroppo è così, ve lo devo dire. Arriva un'offerta di 900.000 per Sabelli, attenzione, attenzione, io rifiuto ragazzi, lo sapete, ho mandato già in prestito un altro terzio, non posso privarmi di Sabelli, però se dovesse arrivare un'offerta clamorosa di qualche altro giocatore, a prezzi un po' più alti, potrei gestirmeli. Vediamo se il nostro giocatore della primavera sale, Bani e Guidi, alla grande, Bani diventano 69, vicinissimo a 70, e Guidi diventano 51, perfetto, quindi gli allenamenti funzionano, quindi ragazzi ci stiamo muovendo direi bene, arriviamo alla sfida col Brescia, eh madonna, Tonucci, attenzione, Tonucci, offerta per Tonucci, facciamo così, Tonucci lo delego, lo delego come trattativa, perché, ok, mi piace Tonucci, però ci ha 28 anni, abbiamo richiamato dal prestito Masi, se riusciamo a far soldi con Tonucci che ha già 28 anni, potrei pensare di monetizzare e vedere un po' come gestire la situazione. Dai, 900.000, non vendere per meno di 700, come minimo, e mandiamolo al vice, quindi, vediamo un po' se la vede lui per questa trattativa, ragazzi, più che altro si fa un po' più veloce, solo per quello, quindi avanziamo, vediamo, ok, Tonucci 830.000, però il Parma, no, allora il Parma rifiuto ragazzi, è una diretta concorrente, il Parma per salire, e quindi rifiuto, fosse stata magari un'altra squadra, ok, ma il Parma no, vediamo, ok, perfetto, possiamo cancellare qui ancora queste email, avanziamo per arrivare alla sfida col Brescia, ragazzi, ho chiesto informazioni per Lombardi, perché giustamente mi avete detto, chiedi informazioni, effettivamente sono stato un idiota, perché non riuscivo a capire come gestirmi quelle trattative, allora, no, è arrivata un'informazione, scusate, non Lombardi, perché sto seguendo anche Lombardi, ma per Borello, ok, Borello, una D59 del Crotone italiano, per il momento lascio stare, però mi serviva sapere quanto era il suo overall, per capire un po' nel caso, poi futuro, se lo posso prendere, in questo episodio, ragazzi, vorrei giocarmi anche la prima di campionato, contro il Brescia, giochiamo però con la squadra 1, tra virgolette, cioè quella un po' più forte, quindi ragazzi, 4 minuti, leggenda, sereno, inizia il campionato di Serie B, la cosa più importante per noi, si va nel match, si parte ragazzi, prima di Serie B, quindi gara importantissima, come quella col Foggia, alla fine, che peccato, siamo andati a perdere così, però questa è veramente la competizione che ci serve, per cercare di andare in quella benedetta Serie A, inquadrato qui, Brienz è il capitano, io direi che siamo pronti a partire, forza Bari, chiudiamo Caracciolo, l'airone Caracciolo la mette dentro, attenzione Rinaldi, chiudiamoli, chiudiamoli, uuuuh, subito l'1-0 del Brescia, con Del Vecchio, mi parla, no, Dell'Oio, ok, 1-0 di Dell'Oio, mamma mia, ci siamo fatti sorprendere qui, anche se io ho usato il, eh, vedete, è andato a vuoto il difensore, maledizione, periodo o no per il momento, ma la gara non è finita, fidatevi di me ragazzi, che la andiamo a riprendere questa gara, io ci credo, dai, 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 cross dentro, esce bene Cassani, ripartiamo noi, dai, 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 rapidi, rapidi, rapidi ragazzi, piu, deve allargare verso Martigno, che frena, vede, Kozak, attenzione, mettigliela, mettigliela, vai piu, vai piu, ma che tiro di merda piu, sì, direi di sì, dai, avanziamo il nostro baricentro, mannaggia voi ragazzi, come siamo partiti male, piu, ancora marrone, marrone allargato, deve chiamarla Brienza, perfetto, pallone dentro per Kozak, il nostro bomber, Kozak, Kozak la tiene, vede il passaggio in profondità per Brienza, Brienza, per Kozak, 1-1, ma che azione che abbiamo fatto, ve l'ho detto che la gara era ancora lì, pronta per essere sbloccata per noi, e andiamo così, Kozak ragazzi, è un bomberone, quanto mi piace questo giocatore, primo gol in Serie B, ovviamente è la prima partita, giustamente, ma dialogo perfetto con Brienza, che gli mette un pallone splendido, e la mettiamo ad incrociare, 1-1, Kozak, fa il movimento giusto, forse io gliel'ho data un pochettino, larga, vediamo se ci arriva, vediamo se ci arriva, vai Kozak, vai Kozak, dagli fastidio, va bene, va bene, penso che a fine primo tempo, sarà già stanchissimo Kozak, ma va bene, non gli importa, vai Martigno, perfetta questa palla, Piu deve temporeggiare, e si appoggia dietro, bravo, bravo il nostro giocatore, mettila dentro, mettila dentro, che c'è Brienza, qua fallo su Brienza, forse rigore, forse rigore, espulsione ragazzi, espulsione a calcio di rigore, mamma mia, sempre Brienza lì, a procurarsi questo rigore, mi mancherà l'anno prossimo, perché lui si ritira, mi mancherà un sacco, e va bene, netto sulle gambe, mamma mia, come possono cambiare le partite ragazzi, come possono cambiare, esce Rinaldi, perché giustamente, il tecnico del Brescia, deve fare dei cambi, ci va Brienza ragazzi, ci va Brienza, ci va Brienza, 2 a 1, si propone il rigore, firma, il 2 a 1, il nostro capitano, grandissimo, Ciccio Brienza, 2 a 1 per noi, a quarantesimo, riparte, 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 il secondo tempo, di questa magica partita, c'è Meccariello, madonna mia, qua stiamo entrando, in pressing ovunque ragazzi, ma è importante, quando sei in 10, devi tenere sempre tu la palla, o meglio, proviamo, a tenere sempre noi la palla, mamma mia, Brienza, che regala spettacolo qui, ancora palla dentro, no, questi passaggi sbagliati, maledizione, maledizione, occhio, occhio, occhio caracciolo, bello l'anticipo di Sabelli, che non ha voluto vendere, diamo così, marrone, vede Brienza, vai Brienza, vedilo subito, perfetto, c'è Kozak, che serve Più, Più la tiene, Più la tiene e l'appoggia dietro, ancora lui, pallone allargato, penso non sia fuori gioco, Martigno, non ci sono compagni liberi, allora ricomincia, Guidi, nostro giocatore della primavera, ve lo ricordo, e qui tergiversa troppo, e c'è Martigno, Martigno, proviamo il cross, sarà calciando, ragazzi, sostituzione veloce, mettiamo Galano al posto di Più, comodissime queste sostituzioni, perché veramente vedi, se uno è stanco, l'allenatore in seconda magari ti dà una mano, ottimo, vai, Francolino Brienza, Brienza, tienila, ok, guadagna una buona rimessa laterale, Brienza, e appoggiamo subito per Sabelli, che va centralmente, vai che c'è Brienza solo, Brienza, deve saltare l'uomo, lo fa bene, può andare Brienza, Brienza, Brienza contro tutti, non lo fermano ragazzi, non lo fermano, Brienza col mancino, Pelagotti, ci mette una pezza, calcio d'angolo, proviamo a metterla sempre su Cosa, che però non prende una palla, non so perché, esce Pelagotti, vai di testa, bravo Bani, bravo, perché qua la situazione, poteva essere un po' preoccupante, vai Kozak, oh fallo su Kozak ragazzi, calcio di rigore ancora, madonna ma i rigori li danno così, vabbè ci sta alla fine, come fallo, qui facciamoci pure una sostituzione, Greco al posto di Guidi, che ci sta alla grande, che è stanco, qui se non sbaglio, forse Gastaldello ci ha battuto, sì, penso proprio di sì, eh vabbè però il fatto ci stava, ok che ci hanno dato questo rigore, tre rigori in due partite, però ci stava dai, vuol dire che creiamo tanto avanti magari, ok ancora Ciccio Brienza sul dischetto ragazzi, io cambio lato, vi dico la verità, cambio lato, Brienza, 3-1, gara in cassaforte, San Nicola, non deve essere espugnato, perlomeno quasi mai in questa stagione, per poter andare in Serie A, fondamentale vincere sempre in casa, e ci facciamo pure un'altra sostituzione, al posto di Martignos, Floro Flores, Martignos, Martigno, siamo troppo fomentati, era importante andare a vincere questa partita, per toglierci dalla mente la sconfitta col Foggia, in Coppa Italia, questo era il modo migliore che volevo, dai miei giocatori, per riprenderci, e quindi ragazzi esce Martigno, 3-1 per noi, ripartiamo, ripartiamo con Brienza, qui si muove rapidissimamente Galano, che è molto veloce, Galano, Galano, solo da andare al portiere, Galano, Pellagotti, ci mette una pezza, vai col calcio d'angolo, Marrone la mette dentro, vediamo chi ci arriva, la palla è buona per Ciccio Brienza, la palla resta lì, maledizione, ancora Floro Flores, calcio d'angolo, e vabbè, ora li stiamo mettendo lì, perché è normale, dobbiamo far vedere chi è il Bari, soprattutto in casa, la tiene Ghiomber, anzi, l'allarga per Brienza, Brienza, grand dripping per lui, Brienza prova a girarsi, finisce la partita ragazzi, 3-1, volevo questa risposta dei miei giocatori, subito reagire a una sconfitta, e soprattutto reagire a un gol subito, nell'immediato, praticamente appena iniziata la partita, vedete, abbiamo giocato benissimo, dobbiamo tenere forse un po' di più il possesso, però ci possiamo lavorare, io direi che è iniziata benissimo la stagione, o meglio, è iniziata in modo, dai, fattibile, definiamolo così, siamo saliti 87 di overhaul, che è buono, è buono come overhaul, facciamoci gli allenamenti, che non dobbiamo dimenticarci mai, perché sono fondamentali, Guidi sta salendo anche molto bene, è vicinissimo al 52, questo va bene, così ne mancano solo 8, e ragazzi andiamoci a vedere l'email, che dice, offre trasferimento per Martigno, 2 milioni e 6, eh, tanti soldi per Martigno, è un giocatore formidabile, questo lo ammetto, ci penso, ci penso perché ragazzi, lo chiudo qui l'episodio, ci penso perché lì, dobbiamo vedere un po' come gestirla, tutta la situazione, perché non è per niente facile, se andiamo a venderlo, poi nelle ultime 10 ore di mercato, che vedrete nel prossimo episodio, ovviamente, dobbiamo vedere un po' come gestirle, allora ragazzi, l'unica cosa prima di chiudere il video, vi volevo far vedere gli obiettivi, alla fine, se andiamo qui su successo in patria, in Coppa Italia diceva solamente di raggiungere i sedicesimi di finale, quindi alla fine il nostro obiettivo l'abbiamo passato, perché bastava vincere la prima partita, quindi stiamo a posto, quindi, ok, volevo andare più avanti, non sono un ipocrita, volevo andare più avanti in Coppa Italia, lo ammetto, però, va bene così per l'obiettivo, poi qua ci dicono di vincere il campionato, un po' tanto, però, vediamo, siamo partiti bene con il Brescia, sono contento, e qui ragazzi, ecco, ora ho visto un milione e otto, un milione e otto, ok, o abbiamo, no, non abbiamo venduto nessuno, forse questi soldi sono perché abbiamo venduto altre magliette, e sono arrivati altri soldi come budget, sì, direi che, ok, è questo il motivo, credo, sì, il merchandising, quindi ragazzi, ancora abbiamo un po' di budget, quindi ragazzi, tanti mi piace per questo episodio, e mi raccomando, attivate le notifiche, non vedetevi il prossimo, perché finisce il mercato qui estivo, e abbiamo comunque sui 2 milioni circa di budget, può succedere di tutto anche la vicenda Martigno, non perdetevi il prossimo episodio che è fondamentale, come tutti gli altri, e quindi ragazzi, un saluto da Ricky, forza vari, e noi ci vediamo in un prossimo episodio, ciao ragazzi! One day we'll fight, we'll fight, we'll fight, Grazie.